Lo hanno definito così il Festival di Cinema nei teatri, il B-Fest, la Kermess cinematografica del Capologo Pugliese che quest'anno si destreggerà da Teatro Cursa, Alpicini, Petruzzelli e Margherita. E proprio qui, nel rinnovato e unico contenitore su palafitte del Capologo Pugliese, è stata inaugurata la mostra dedicata a Ettore Scola, che del B-Fest è stato uno dei protagonisti nelle scorse edizioni. A 90 anni dalla sua nascita e a 5 dalla morte, nel giorno conclusivo della rassegna barese, verrà proiettato il suo film La Terrazza, nell'edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale. Al maestro è intitolato anche il premio per la migliore pellicola italiana inedita della sezione Italia Film Fest. E proprio in queste ore si apre il Festival con il materiale emotivo, film tratto dal soggetto di Scola, un drago a forma di nuvola, diretto e interpretato da Sergio Castellito con Berenice Beggio e Matilda De Angelis. Dopo l'edizione piuttosto travagliata del 2020, quest'anno il menù cinematografico per il Bar International Film Festival è decisamente ricco, con 8 anteprime internazionali presentate nella sezione non competitiva al Teatro Petruzzelli. 12 film in gara provenienti da tutto il mondo in anteprime italiano internazionale della sezione Panorama Internazionale, 9 masterclass al Teatro Petruzzelli, una per ogni giorno del Festival, 6 film italiani in anteprima assoluta nella sezione Italia Film Fest e ancora il tributo a 01 Distribution a 20 anni dalla sua fondazione con la presentazione di 32 pellicole al Teatro Cursale e 8 al Teatro Piccini, introdotte da registi, attrici, attori e produttori che vi hanno preso parte. I premi Fellini Platinum Awards for Cinematic Excellence a gram di personalità del cinema e i premi alla carriera.